Hi guys, bentornati nel mio canale, bentornati in questo nuovo video. Come avete potuto leggere dal titolo, oggi vado a realizzare un'acconciatura usando i bigodini da permanente e questo video oggi ragazzi è in collaborazione con Vanity Case, per cui per fare questa acconciatura andrò ad utilizzare i prodotti che mi hanno gentilmente inviato. Ho già lavato i miei capelli con questo shampoo e conditioner della Kera Care che erano all'interno della box e ho anche già idratato i miei capelli usando questo leave-in conditioner sempre della Kera Care ancora prima di allungarmi i capelli con il phon. Purtroppo questa parte non ho potuto filmarla per fare questo video, ma se mi seguite su Instagram troverete una breve demo che ho fatto con un reel usando tutti i prodotti. Come dicevo prima ragazzi, andrò ad usare questi bigodini da permanente che sono di due misure diverse e andrò a metterli sui capelli già allungati con il phon. Per fissare i bigodini andrò ad usare la Double Butter Cream della As I Am che è super super densa ed idratante, amo questa crema ragazzi. Ero un po' però indecisa tra usarla oppure usare una mousse perché solitamente quando facevo questo tipo di messa in piega durante la mia transizione venivano molto meglio utilizzando una mousse. Ma visto che questa volta i miei capelli voi non li avete visti prima del lavaggio ma erano non secchi ma di più, quindi per questo motivo alla fine ho scelto di usare questo prodotto che mi ha mandato sempre Vanity Case che è super idratante. Vedrete poi di cosa parlo. Come potete vedere ho iniziato da dietro e sono andata a prendere una sezione di capello. Ho applicato già la Double Butter Cream e poi vado a iniziare dalle punte andando verso in su. vado ad arrotolare la punta del capello prestando molta attenzione affinché la punta sia ben aderita al bigodino. Dopodiché vado in su girandolo attorno ai capelli fino alla radice e dopodiché fisso il bigodino proprio in questo modo. Quindi passo a prendere un'altra sezione e qui come vedrete ragazzi dopo aver messo la crema mi sono ricordata di non aver fatto una cosa molto importante ovvero quello di spazzolare i capelli la sezione del capello prima di andare ad avvolgerlo attorno al bigodino. In questo modo riesco a far rappiattire bene le punte dei capelli sul bigodino. Questa cosa è molto importante infatti poi per sicurezza sono dovuta andare a rifare anche la sezione precedente. E niente ragazzi continuo lo stesso procedimento su tutta la parte dietro dei capelli userò il bigodino arancione che ha il diametro un po' più grande invece sulla parte frontale userò quelli fucsia. E questi bigodini ragazzi li potete trovare su Amazon per acquistarli trovate infatti il link nella box in descrizione che trovate qui sotto al video. Continuo sempre con lo stesso procedimento usando sempre la crema che inoltre ragazzi ha anche un profumo buonissimo. Avrete visto prima infatti che lo stavano usando anche il leave-in che ho usato della Linea Core Essence della Kiera Kier tra l'altro ha un profumo anche molto buono molto dolce però in effetti penso che potrebbe addirittura non piacere a chi magari potrebbe essere sensibile ai profumi perché è veramente forte mi ricorda addirittura un po' lo sciroppo di mio figlio però comunque allo stesso tempo è piacevole. In compenso però alla fine di tutto non si sente neanche più di tanto in più mi ha ammorbidito i capelli un sacco per me è super valido come d'altronde anche lo shampoo è il balsamo che ho usato precedentemente. E li potete trovare tutti nell'e-commerce di Vanity Case dove troverete sia prodotti per capelli ricci afro cosmetici trucchi quindi beauty in generale hanno un sacco di brand per capelli afro come As I Am appunto Kera Care Shea Moisture Cream of Nature e tanti altri brand sappiamo tutti ragazzi che qui in Italia purtroppo è un'impresa trovare prodotti adatti ai nostri capelli kinky fortunatamente però ci sono oggigiorno ci sono un paio di e-commerce che ci sono per noi è uno di questi che esiste tra l'altro da tantissimi anni ormai è Vanity Case per cui non esitate ad andare a fare un giro nel loro sito che vi lascio sempre qui sotto nell'info box ed inoltre ragazzi come regalo di Natale ho anche un codice sconto per voi del 20% su tutti i prodotti che acquisterete nel sito di Vanity Case il codice è SimpliKey ve lo scriverò anche qui sotto quindi consiglio di approfittarne mi raccomando bene ragazzi torniamo a noi ormai sono alla fine mi è rimasta l'ultima sezione farò asciugare la messa in piega durante la notte e poi procediamo al disfare tutti i bigodini e rieccomi qui di ritorno questa era la mattina dopo scusate la faccia ragazzi ma mi sono svegliata mi ero svegliata stra presto per filmare quindi niente procedo a togliere tutti i bigodini dopodiché vado ad un germe le mani con un po' di olio per fare la separazione quindi procedo a separare tutti i boccoli uno per uno e vi prego ragazzi di non affrettarvi quando andate a fare questa cosa altrimenti veramente addio s'acconciatura ok ed ecco qua ragazzi guardate la lucentezza raga look at the shine and the bounce ok qui ci vuole un'ultima sistematina però quindi eccoci qua mi sono cambiata l'outfit ed ora si che ragioniamo ragazzi che dite vi piace fatemelo sapere qui sotto nei commenti io direi che a parte le punte dei capelli che non mi convincono molto e so già il perché dovrei tagliarle un po' dovrei fare una piccola sistematina alle punte a parte questo io sono davvero soddisfatta del risultato quindi niente spero che il video vi sia piaciuto se è il caso mettetemi un pollice in su iscrivetevi al canale mi raccomando ragazzi se non lo avete ancora fatto e nulla ragazzi noi ci vediamo al prossimo video un bacione ciao ciao ciao